Marcus Turam ancora al centro di voci di mercato, c'è il serio rischio di un clamoroso addio, ma Rotta ha preso una decisione. Le scorie per un derby perso meritatamente sono state ormai smaltite, con l'Inter di Simone Inzaghi obbligato però a tornare a correre, per evitare di perdere ulteriore terreno dal vertice della Serie A. Un inizio di stagione che rimane comunque positivo anche se, al di là del calcio giocato, a tenere banco ancora una volta è il calciomercato, le idee di Beppe Marotta da mesi a questa parte sono chiare. Noa spese folli, spazio ad operazioni oculate e programmate con largo anticipo sulla concorrenza, per accaparrarsi i calciatori che altrimenti sarebbe impossibile portare a Milano. Recentemente è accaduto con Piotr Zilinski e Meditaremi, entrambi convinti a firmare a zero con i nerazzurri. Un anno fa il più grande capolavoro ha preso il nome di Marcus Turam, il quale dopo una stagione davvero strepitosa ha tutta l'intenzione di ripetersi a suon di reti e grandi prestazioni, il figlio di Liliane è ormai un titolare fisso di Inzaghi, che non ha praticamente mai rinunciato al francese quest'anno, sei presenze, Champions compresa, con già quattro reti e due assist vincenti. Un ruolino di marcia che rispecchia quanto raccolto dall'ex Borussia Mgladbach un anno fa, 15 gol, 14 assist in 46 apparizioni. Mostruoso.Rivelazione shock, vogliono Turam. Adesso, però, l'Inter torna a preoccuparsi per quello che in sede di mercato potrebbe accadere al suo bomber. Una doppia ghiotta possibilità rischia di portare Turam lontanissimo alla Milano Nerazzurra, ecco cosa sta succedendo. Il giornalista Ekrem Konur, estremamente informato sulle più recenti vicende in sede di calcio mercato, ha lanciato la bomba. Turam via dall'Inter, una possibilità concreta in vista dell'estate 2025. Il giornalista ha specificato, infatti, quella che potrebbe essere la prossima destinazione del centravanti francese. L'attaccante dell'Inter Marcos Turam sta suscitando l'interesse dei club di Premier League e della Liga. Konur ha specificato quello che sembrerebbe essere lo scenario futuro con la punta francese al centro di un intrigo internazionale di mercato. Le prestazioni impressionanti di Turam in Serie A, hanno catturato l'attenzione di questi giganti, desiderosi di rafforzare le loro opzioni offensive. Secondo Konur, però, l'Inter non ha la minima intenzione di pensare all'accessione della sua stella. Marotta e la dirigenza di Viale della Liberazione proveranno a fare muro, trattenendo il figlio d'arte ancora a lungo nella Milano Nerazzurra.